Buongiorno, allora stamattina sono un po' in versione, non fate caso al casino qua dietro, fate finta che non c'è niente né qui né qui Sono un po' versione segretaria, infatti ho fatto pure il trucco da segretaria, vabbè stamattina c'avevo voglia di truccarmi, non so perché Sto al computer, sto praticamente finendo di editare, ha finito finalmente, finendo di editare il video di ieri che poi penso che avete già visto Sono in compagnia di Adriano, che come sentite non ha nessuna voglia di dormire, ha mangiato, ha cambiato e tutto, ma non c'ha voglia Vabbè, ora mi dedico un attimo a lui, cerco di capire che cosa ha e vi metto in il video su YouTube Allora, eccomi qua, volevo parlarvi di PatPat, allora PatPat è un sito cinese tipo Shane che vende prettamente abbigliamento da bambini e cose per la casa Sempre inerenti al quadro generale bambini Bambini si parte dal neonato per arrivare ai 14 anni Ed ha praticamente di tutto, è un po' come Shane Solamente che Shane prende tutta la famiglia, la casa, gli animali eccetera E PatPat si concentra maggiormente sui bambini Allora, ho fatto un ordine, vi dico subito che ho fatto un ordine, non è una collaborazione, anzi io ho lasciato un po' di soldi Perché proprio volevo vedere come erano le cose, se erano come quelle di Shane o se cambiava la tipologia, soprattutto di materiale Perché? Perché le cose che ci sono su PatPat, alcune cose le ritroviamo anche su Shane, sono sincera Perché alcune cose le ho viste uguali tanti che spiccicate su Shane L'unica differenza che volevo riscontrare era sul materiale Perché il materiale di Shane spesso e volentieri è quel materiale Come dire, tipo plasticoso, io non ve lo so spiegare È quel materiale che fa sudare E sinceramente metterlo a contatto con la pelle dei bambini Soprattutto d'estate non è il massimo Invece, e volevo appunto valutare questo E a primo acchitto, devo dire la verità Mi sembra che Eccomi qua Allora, vi dicevo che a primo acchitto Mi sembra che le cose di PatPat siano migliori a livello di tessuto Perché mi sembrano un po' più cotone Però ora non voglio dirvi una stupidaggine Perché sinceramente non penso che facciano pagare le cose in cotone così poco Boh, non lo so Comunque, a me queste cose piacciono Perché sono sfiziosette Sono quelle... Cioè, io sto notando una certa difficoltà Con Adriano Io sto riscontrando una certa difficoltà con Adriano A prendergli delle cose Non tanto le... Perché io sono così Nel senso, io compro le tutine Quelle tutte uniche Per usargliele dentro casa Come se fosse un pigiamino Invece, per uscire Preferisco Vestirlo veramente Cioè, vestirlo nel vero senso della parola Quindi mettergli magari una felpa Con un pantalone E le scarpe Sì ragazzi Io metto le scarpe a un neonato Di un mese Ce l'ho comprate L'ho comprate da Chiabbi Treppaglia E anche qui ho fatto un ordine di scarpe Per un neonato Però Io so fatta così Cioè, c'ho questo pensiero Io nella mia testa C'ho questo pensiero Nella mia testa E Che dovete fare? Cioè, prendetemi così come so Allora Inizio col farvi vedere le cose Se no sto qui a Ciancischia In continuazione Vi dico solo Che i prezzi sono convenientissimi Ci sono alcune cose Che costano di più Alcune cose che costano di meno Ci sono cose Marchiate Looney Tunes Molto carine E come Shane Tutte le cose vi arrivano Nei loro sacchettini Questo è il sito E E potete trovare anche E potete trovare anche All'interno del sito I coordinati Famiglia Quindi padre, madre Figli vari Allora Iniziamo subito con questo Io prendo a random Quindi Non sto qui a farvi vedere A Darvi un ordine Allora Come prima cosa Ho preso questo Cappellino qua Che mi piaceva tantissimo Il grigio con i pompone Rappresenta un orsetto La cosa che mi piaceva Era questa Cioè che avesse Questi due laccetti Che tu praticamente Puoi benissimo Fargli il fiocco Sotto al collo E sta fermo È in ciniglia All'esterno E dentro È di pile Allora Questo per Adriano Adesso è un po' grande Perché Gli sta veramente grande Gli centra tutta la testa Ad Adriano Qui Quindi non glielo metterò Adesso Ma Lo Tengo Per Il prossimo Inverno Poi Ho preso Un altro Cappellino Questo invece Gli sta molto bene E l'avevo preso Per utilizzarlo In primavera Perché è molto leggero E sto parlando Di questo cappellino Qua Molto semplice Basico Sul beige Con Dei quadratini Con una trama A quadritti Con scritto Qui Baby boy Ed è molto Molto carino È un po' come una cuffietta Di quelle che si mettono In primavera Ma può essere messa Anche in estate Nel caso Ci sia un po' Di venticello La sera Qui soprattutto Da me Succede E questo appunto È il cappellino Che invece Gli sta Cioè Notate la differenza Di misura Quindi capite bene Che Questo posso Metterglielo Adesso Quando verrà La primavera Ovviamente Lavo tutto Io Non sono una Che non lava Poi Passiamo A Questo Che sono Delle calzette Allora Io sono Patita Delle calze Dei neonati Mi piacciono tantissimo C'è un cassetto Pieno Di là Per Adriano E Ho preso Come misura La S E le calzette Sono Queste Allora Un paio Sono fatte In questo modo Cioè Hanno Il pupazzetto Sopra Questo è Praticamente Un draghetto Sono due draghetti Uno messo In Da davanti E uno messo In profilo E sotto C'è La scritta Kiss Baby Da una parte E dall'altra Ed è fatta Sono praticamente Antiscivolo Ecco Per farvi capire E io ne ho altri Di antiscivolo Fatti in questo modo Con le scritte sotto Che ho preso da amazon Che mi piacciono tantissimo Peccato che sono lunghi Quindi arrivano un pochino su Rispetto Alla caviglia Però queste mi piacciono Perché Mi piace farle utilizzare Magari Dentro casa Come calzine Antiscivolo Proprio Come ciabattine E C'era Diciamo La cosa Di prenderne due Erano In coppia Diciamo Quindi ho preso La coppia Draghetto E Koala Cioè Il Koala È fantastico La scritta sotto È sempre la stessa Cambia solamente Il pupazzino Sopra Ma questo è Fantastico Sto Koala Cioè Mi piace tantissimo Con il Fiocchetti Sì Con il fiorellino Rosa Però Le Calzette Sono Sono celesti E queste Sono Due paia Di calzine Che adesso Andrò a lavare Immediatamente Passiamo alle scarpe Vi ho detto Che ho comprato Le scarpe Ne ho comprate Tre paia Da chi abbia Ne ho comprate Tre paia Qua Allora Un paio È questo Queste rimarranno Poi Rimarranno Poi Nella loro Scatolina Allora Un paio Sono queste Con la scritta I love Papa Papà E Mama Papa E Mama Sono Praticamente Semplicissime Di Tessuto Infatti Queste Andranno Messe Quest'estate Con lo Strap Bianche Bianche Semplicissime Perché Secondo me La scarpina Bianca Va bene Su tutto E quindi Ho preso Anche Questa L'avevo presa Un'altra Da chiabbi E ho voluto Prendere Anche Questa Poi Ne ho presa Una Fatta In questo Modo Che Mi dà L'idea Di essere Leggermente Più Particolare Ovvero Questa Fatta Anche Questa Con la scritta Hello Baby Cool Bianca Blu Rossa I classici Colori Damaschio La particolarità È questa Che Nella parte Questa Qui Della Linguetta Diciamo C'è L'orsetto Lavatore C'è Troppo Bello Troppo Troppo Carina Anche Perché Questa Parte Qui È Di Pelosino Diciamo Però Sono Leggere Come Scarpa Sono Leggere E Queste Sono Bellissime C'è Sopro Sfiziosissime Eccole Qua Sfiziose 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 E Poi Ho preso L'ultimo Paio Di Scarpe Che Sono Delle Simil Converse Rosse C'è Che io Cerco Da Una Vita Per Me Che Non Trovo Mai Il Numero E Le Ho Prese A Lui Sono Carinissime Queste Con Anche Un Qualcosa Di Bianco Di Rosso E Blu Sono Fantastiche La Cosa Carina E Che Sotto Ci Hanno I Puah Queste I Puah Grandi Queste Hanno I Puah Piccolini E Anche Queste Ce L'hanno Piccolini Questi Sono Un Po In Rilievo Queste Invece Sono Proprio Di Stoffa Carine 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 Costano Una Sciocchezza Queste Quindi Non Pensate Che Abbia Speso Chissà Quanti Soldi Per Un Paio Di Scarpe Da Neonato Che Metterà Sì E No In Croce Due Volte Però Carine 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 Poi Andiamo Avanti C'era Un'altra Cosa Che Ecco Ci Sono Questi Che Sono Un Pacco Di Calzini I Calzini Servono Sempre E Questa Era Praticamente Un Insieme Di Calzini Di Base Bianca Di Diversi Colori Allora C'è Questo Qui Con Le Reghe Beige Questo Con Le Reghe Nere Questo Con Le Reghe Marroni Questo Con Le Reghe Azzurre Questo Con Le Che Sono Una Due Tre Quattro Cinque Sei Paia Di Calze Sei Paia Di Calzini Che Vi Devo Dire La Verità Fanno Comodissimo E Io Ho Voluto Prendere Fortemente Perché I Calzini Da Neonato Almeno I Negozi Dove Vado Io Costano Uno Sproposito Invece Questi Sono Carini Sono Belli Belli Sostanziosi Sono Di Spugna Quindi Sono Belli Sostanziosi Belli Morbidi Anche All'interno E Mi Piaciono Tantissimo Quindi Benvenga Poi Andiamo Avanti Mi sa Che Con Gli Accessori Ho Finito Sì Vi Faccio Vedere Proprio I Vestiti Che Gli Ho Preso Allora Come Vi Dicevo Nel Precedente Video Gli Ho Preso Dei Vestiti Che Vestano 3 6 Mesi Perché Perché Della taglia 1 3 Mesi Adesso Sono Piena Perché Gli Ho Comprato Praticamente E Gli Hanno Regalato Anche Delle Cose Quindi 1 3 Mesi È Praticamente A Posto Invece Per Quanto Riguarda La Stagione Diciamo Da Marzo Quindi La Stagione Primaverile Non Aveva Nulla La Stagione Estiva Sinceramente Io Sono Abituata A Non Vestirli Tantissimo Soprattutto Se Devono Stare In Casa Certo Se Devono Uscire Un Pantaloncino E Una Magliettina Però Se Devono Stare In Casa Stanno Con Il Body Quindi Non Mi Sembra C'è Il Momento Di Comprargli Delle Cose Proprio Estivissime E Gli Ho Voluto Quindi Prendere Delle Cose Un Proprio Leggere Ma Primaverili Allora Iniziamo Subito Con Il Primo Il Primo Completo Che È Questo Pantalone Fatto Così Con L'elastico In Vita Che Rimane Larghino Con Gli Strappi Qui E Sopra Ha Questa Magliettina Qua Che A Mi Piaceva Tantissimo E C'è Scritto Daddy Son Best Friend For Life Cioè Papà E Figlio Migliori Amici Per La Vita Nero Con Il Cappuccetto Allora Parla Tornando Al Discorso Del Tessuto A Me Questo Tessuto Rimane Più Consistente Rispetto A Quello Di Shane E Soprattutto Mi Sembra Più Di Qualità Io Non So Che Altro Dirvi È Comunque Made In Cina Ora Se Riuscisse A Trovare L'etichetta Con Il La Composizione E Infatti E Infatti Vedete Che Non Avevo Sbagliato Completamente Perché Questo Effettivamente È 95% Cotone A Differenza Di Shane Che È Completamente Acrilico Quindi Acrilico Comunque Quel Materiale Io Non Non Ricordo Come Si Chiama Quel Materiale Che Fa Sudare Tantissimo Ecco Questo Invece 95% Cotone Quindi A livello Di Qualità Di Tessuto È Decisamente Meglio Pat Pat Di Shane E In In Più Vedete Quando Vi Dicevo La Queste Sviziose Cioè Queste Cosine Qua Con Queste Scritte Con Dei Delle Cose Particolari Così Ok Scusate Ma Avevo La Fotocamera Del Telefono Che Era Piena La Memoria Del Telefono Era Piena Ho Dovuto Cancellare Un Po Di Cose Vecchie Che Avevo Buttato Che Ancora Erano Dentro Allora Dicevo Ho Preso Appunto Questi Con Questa Magliettina Sopra E Vi Devo Dire Che È Perfetta Mi Piace Tantissimo Andiamo Avanti Allora Altro Completo Perché Penso Che Ne So Persa Pure Il Filo Del Discorso Quindi Vado Decisamente Oltre Allora Anche Qui Ho Preso Un Altro Completo Composto Da Cappellino E Con Il Cos Come Si Dice Il Dietro Militare Questo Qui È Leggero E Anche Questo È Primare Rile Un Pochino Grandino Però Comunque Si Può Mettere Poi Pantaloncino Anche Questo Militare Con Le Righe Sia Sopra Che Sotto Che Qui Stringono E Sopra C'è Il Body Il Body È Fatto Così Che È Praticamente Un Body Bianco Con Il Il Dinosauro Con Scritto Little Man Cioè Carinissimo Anche Questo E Anche Questo Si Sente Che È Cotone Poi Altro Completo È Questo Qui Come vedete Ho preso Tutti i completi Staccati Perché Sono Per Uscire Perché Per Stare Dentro Casa Con Il Pigiamino Già L'abbiamo Presi Quando Eravamo A Perugia Perché Ovviamente Mio Mio Marito Nel Frangente Che Aspettava Per Darmi Il Cambio Andato Comunque Al Centro Commerciale Qualcosa Ha Trovato Poi Questo Completo Fatto Di Verde Militare Di Un Vellutino Ma Leggero Coscritto Mama's Boy E Sopra La Felpina È Fatta Così Bianca E Verde Bianca E Verde Con L'orzetto Coscritto Anche Qui Mama's Boy Sia Molto Molto Carina Anche Questa Poi Ho Preso Questo Che Questo È L'ultimo Completo Spezzato Perché Ne Ho Preso Comunque Uno A Tutina Unita Diciamo Allora Questo È Il Sotto È Un Pantalone Della Tuta Però Leggero È Di Quelli Garzati Dentro Non Felpati Della Tuta Grigio Con Gli Inserti Grigi È Blu Non È Nero Ma È Blu E Il Sopra È Questo Il Sopra Mi Piaceva Tantissimo Grigio Celeste E Blu Scuro Allora Io Sono Un'amante Della Tuta Grigia Ma Perché Mi Dà L'idea Proprio Di Tuta Quindi Mi Piaceva Tantissimo Il Fatto Che Fosse Che Avesse Questi Inserti Grigi Così E Poi Per Ultimo Ho Preso Un Appunto Come Vi Ho Detto Un Una Tutina Unita Però Leggera Nel Trattempo Lo Controllo Perché Vorrei Che Mi Svegliasse All'improvviso Una Tutina Leggera Questa Era Troppo Carina Questa Non Penso Che Sia Cotone Cotone Ora Controllo Perché La Sento Un Po Strana Fatemi Controllare E Infatti Questa È Poliestere Ma Si Sente Al Tatto Cioè La Sento Proprio Al Tatto Che È Diversa Da Quelle Al Tre Però Mi Paceva Tantissimo Mi Paceva Veramente Tanto È Tutta Gialla Con Questi Inserti Blu Con Questa Scritta Sport 28 Che Adesso Va Tantissimo Questo Queste Cose Un Po Sul Basket Ecco E Quindi Mi Piaceva Che Anche Lui Avesse Qualcosina Però Mi Dispiace Perché Questa Ad E È In Poliestere Come Le Robbe Di Shane Però Il Resto È Tutto Di Cotone Quindi Questo È Quello Che Io Ho Preso Da Pat Pat Valutate Voi Se Prenderle Non Prenderle Perché C'è Un Po Una Discussione A Riguardo Su Questi Su Questo Abbigliamento Che Proviene Dalla Cina A Me Piace Certo Non È Che Gli Metto Tutti I Giorni Gli Metto In Determinate Situazioni E Quindi Mi Va Bene Così Insomma Una Tantum Si Può Anche Mettere Per Pelle Non Ci Saranno Mai Queste Cose Qua E Quindi Niente Adesso Rimetto Tutto Via Quello Che Dovrò Andare A Lavare Poi Nei Prossimi Mesi E Invece Le Calzette Le Scarpe Le Vado A Mettere Nell' Armadio Ora Vi Faccio Vedere Quello Che Mi Ha Portato Quello Che Ci Ha Portato Un Amico Da Parte Degli Amici Che Abbiamo Del Gruppo Di Amici Che Abbiamo Guardate Che Bello Guardate A parte Lasciate Perdere Che Io Poi L'ho Aperto Guardato Dentro E C'era Però Guardate Questi Sono I Regali Visto I Prezzi Dei Pannolini Che Uno Vorrebbe Che Guardate Classica Torta Pannolini E La Seconda Perché Un'altra Me L'ha Fatta Una Amica Con I Prodotti Mustela Che Io Volevo Comprare Però Ho Temporeggiato Perché C'ho Praticamente Da Finire Delle Cose Di Là Però Sono Contentissima Perché Sono Buonissimi E Li Volevo Provare Quindi Grazie 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 Ma Coscini Piccolini Così C'è Bello 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 Mi piacciono Questi regali Poi Biberon Biberon Questo serve Questo serve Buonasera Stasera Per cena Perché Siamo già Arrivati A cena No No Mamma mia Ragazzi Che pazienza Che ci vuole Allora Stasera Perché Siamo già Arrivati A sera Ovviamente Perché Dopo pranzo Poi I figli Sono andati A karate Prima Catechismo Poi karate E Io Sono rimasta A casa Con Adriano Per Dargli Da mangiare Siamo Arrivati A cena Se vuole Si sta Allenando Ecco perché Mi ha detto Di non Far vedere Quello Che Sta Facendo Va Bene Comunque Stasera Per cena Osso Buchi E Li Faccio Con C'ho già La ricetta Pronta Io mi trovo D'addio Col bimbi Cioè Chi Si trova Male Perché Non Non Riesce A utilizzarlo O altro Io mi trovo Benissimo Infatti Non capisco Cioè Chi dice Eh ma Mi piace Non mi aiuta Preferisco Far con le padelle Signore Santissimo Cioè Io Con le padelle Qui rimane pulito Rimane pulitissimo Anzi Quasi quasi Cerco Di mettere Questo Varoma Di sopra Così Almeno faccio Tutte e due Insieme E non C'ho manco Quel problema Lì E vabbè Si è svegliato Non è possibile Ragazzi Non è possibile Cioè Io cerco Di fare Qualunque cosa Vi giuro Qualunque Anche solo Andare a fare La pipì Al bagno Non è possibile Devo fare La cena So alle 8 Già ci metterò Una quarantina Di minuti Per far questo Quindi Ok Bene Il tempo Che Aurora Fa la doccia Samore Finisce alle nasse Io cucino La cena Allora Buongiorno Ovviamente Mi vedete qua Perché Mi sono dimenticata Di chiudere il vlog Quindi Lo chiudo Adesso In maniera tale Che ve lo monto E niente Spero che vi sia piaciuto E Lasciatemi i commenti Sul sito Che vi ho fatto vedere Di abbigliamento Così Mi date un po' Dei consigli Se l'avete provato Eccetera E Ci vediamo Al prossimo video Ciao